. Beatrice Valli compleanno, il regalo di Marco Fantini fa sognare Uomini e donne, Beatrice Valli compleanno, cosa le ha regalato Marco Fantini. Beatrice Valli ha compiuto 23 anni. E nel giorno del suo compleanno lex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto una dolce sorpresa dal fidanzato ed ex tronista Marco Fantini. . Come svelato su Instagram, il modello ha regalato alla madre della figlia bianca qualche ora di relax in una spa. . Non solo, Marco ha fatto trovare a Beatrice, a bordo piscina, la scritta Ti amo realizzata con delle candelle. . Una sorpresa dolce e unica che ha entusiasmato Lavalli, felice di trascorrere ancora una volta questa ricorrenza importante accanto al suo Marco, conosciuto qualche anno fa alla corte di Maria De Filippi. . Per Bea, poi, questo è un compleanno diverso dal solito, è il primo insieme alla figlia bianca, frutto dell'amore con Fantini. . La piccola è nata lo scorso giugno ed è la gioia di Marco e Beatrice. . L'arrivo di bianca ha rafforzato l'amore tra i due che ora non vedono l'ora di sposarsi. . Per il momento una data del matrimonio ancora non cè anche se, secondo alcuni, sarà prima della fine del 2018. . Magari in estate, su una spiaggia, come sogna Lavalli. Per ora i due convivono felicemente a Milano. . Entrambi hanno un lavoro stabile nel mondo della moda, senza contare quello sul web, soprattutto Beatrice è ormai una web influencer a tutti gli effetti. . Con i tre non manca Alle, il primo genito che la sorella di Ludovica Valli ha avuto qualche anno fa, quando era poco più che maggiorenne, da una precedente relazione. . . . .